Pier Silvio Berlusconi furioso per il GF VIP, punitivo alle repliche delle reality sulla 5. Salta la replica del grande fratello VIP sulla 5. Come accade ogni settimana, la rete digitale del gruppo Mediaset avrebbe dovuto trasmettere a partire dalle 21.10 la replica della diretta delle reality show condotto da Alfonso Signorini è andata in onda in prima serata giovedì 2 marzo. Ma, secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano e conferma il palinsesto ufficiale Mediaset, la programmazione ufficiale ha già sostituito la puntata del GF VIP con il film Un'ottima annata, questa sera la puntata prevista non sarà trasmessa. Una decisione importante perché arriverebbe da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo. La decisione di Berlusconi di sospendere la replica della diretta di Canale 5 trasmessa sulla 5 sarebbe arrivata per decisione della di Mediaset. Infastidito dai toni utilizzati nel programma. Un eccesso di volgarità e parolacce. Oltre ai toni accesi delle discussioni, avrebbero portato alla decisione di cancellare la replica prevista sulla 5. Berlusconi in persona avrebbe visionato attentamente la puntata prima di stabilire che quanto trasmesso in diretta nella serata di ieri rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico. Fonti ben informate hanno riferito a Fanpage It che la decisione storica perché senza precedenti di interrompere le repliche sulla 5 sarebbe stata preceduta da una serie di richiami. Non si tratterebbe, tuttavia, di una bocciatura nei confronti del conduttore Alfonso Signorini. Al contrario, Berlusconi e il conduttore si troverebbero sulla stessa lunghezza d'onda e si sarebbero parlati a lungo. Cosa che spiegherebbe il richiamo all'ordine del presentatore nel corso della diretta di ieri. Il problema risiederebbe in una serie di scelte autoriali che avrebbero favorito la discesa delle reality verso il basso, almeno dal punto di vista del linguaggio. Dopo avere chiesto più volte un cambio di rotta, mai arrivato, è scattata la decisione di interrompere la messa in onda delle dirette sull'A5. Grazie per la specione. Grazie a tutti